a tutti ben ritrovati in un nuovo video scusate la luce è sera ho un attimino di tempo e vi giro un altro vlogmas allora un altro video in collaborazione con happy glam non è una collaborazione retribuita è un gifted mi hanno inviato altri quattro smalti in dettaglio ho già messo questo qui su una mano per sapete per avvantaggiarmi scusate qua non è sbavato ma mi sono scartavetrata il callo dello scrittore chiedo scusa ho messo sostanzialmente questo qui rosso per il mese di dicembre ho le unghie corte perché ho tolto il gel e sto facendo riprendere però è molto molto carino devo dire che happy glam si conferma un'ottima scoperta per fare a casa il lo smalto semi permanente adesso andremo a mettere insieme lo smalto da questa parte mi hanno inviato the perfect gift che voi potete trovare sul sito di happy glam e con il codice sconto cate 50 con la k in piccolo che vi scrivo in info box potrete avere il 50 per cento di sconto su quello che voi scegliete con 59 euro di spesa potete scegliere un regalo ulteriore è una perfettissima idea regalo ve lo dico proprio sinceramente sapete che per tanto tempo sono andata dall'estetista a fare il gel sulle mie unghie adesso non solo per happy glam ma volevo smettere un po e francamente ho fatto anche abbastanza bene per far sì che comunque la mia unghia si riprenda e devo dire che anche con l'unghia corta curata con lo smalto non sono così presa male sono onesta happy glam mi aiuta in una stesura semplice certo c'è sempre margine di miglioramento ma devo dire che questo bellissimo rosso che mi hanno inviato in questo secondo gifted è molto molto bello non è un rosso super vivo rosso valentino ma è un po un una sorta di borgogna mi è piaciuto di più e andremo a mettere questo poi in the perfect gift non mi hanno ovviamente rinviato la lampadina che mi avevano precedentemente inviato poi mi hanno inviato super power che magari metteremo più avanti però preferito puntare adesso su quello poi mi hanno inviato questo qui up and coming che è leggermente più scuro poi mi hanno inviato questo ve l'ho detto poi mi hanno inviato per fare la nail art cosa che io al momento temporeggio perché non vorrei fare un po delle cavolatine poi mi hanno inviato l'olio per le cuticole che non utilizzeremo in questo frangente però volendo si può utilizzare non lo utilizziamo in questo frangente perché ho avuto sono onesta un attacco violento sulla mia pop sul mio povero callo dello scrittore e ho la crosticina e non posso fare molto quindi vorrei evitare altri danni quindi al momento ci godiamo questa ottima manicure che ripeto se volete fare un signor regalo alla mamma alla sorella alla cugina a un'amica speciale credetemi che questo è un signor kit tra l'altro tutto molto compatto adesso rivedrete il la la lampada molto piccola per come dire polimerizzare le unghie parliamo in gergo e quindi insomma questo adesso io vi abbasso leggermente il passaggio principale per fare bene la manicure è con il buffer scusate al contrario di happy glam andiamo sostanzialmente a pulire bene l'unghia dalle cellule morte della precedente manicure che tra l'altro avete visto perché è un video precedente di happy glam ok io con il buffer sostanzialmente vado a togliere tutte le cellule morte poi che cosa vado a fare con le cleaning pad del primo invio che mi hanno fatto sostanzialmente ne ho già utilizzate due per questa manicure molto carina vado a prendere le cleaning pads e sostanzialmente vado appunto a passare sopra per levare gli eccessi polverosi chiamiamoli così il passaggio successivo è con la base coat che andremo a mettere appunto aspettate che sulla mi vedete sì la base appunto l'andiamo a mettere sulle nostre unghie devo dire che happy glam sostanzialmente mi ha svoltato nel senso che è un semi permanente effettivamente molto innovativo soprattutto per levarlo sono onesta aspettate che vediamo se senza fare danni perché se no cadete ok vediamo un po così vedete andiamo a polimerizzare dicevo che è molto molto performante da questo punto di vista perché sono onesta tutti i pelucchetti la polverosità che vado a togliere in maniera molto molto semplice bello bello anche questo rosso dicevo che è molto molto semplice da togliere sono onesta si leva proprio a peel off e francamente trovo che sia un semi permanente effettivamente molto molto gentile concedetemi il termine sulle unghie che non le va ad aggredire molto e se ve lo dico io che è più di due anni che facevo il gel sopra le mie unghie per carità l'ho voluto fare l'ho fatto mi è sempre piaciuto va bene ma francamente bisogna farlo due volte ma francamente dicevo sono onesta adesso che poi l'ho tolto ho notato comunque un forte indebolimento siamo onesti per quanto comunque io sono sempre stata molto attenta e tutto il gel anche sulla tua unghia ti va sostanzialmente come dire a indebolire molto 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 l'unghia stessa e l'ho percepito quindi insomma vorrei vorrei far passare il giusto messaggio è vero che me l'hanno inviato per carità però sono onesta l'ho sempre visto con grande interesse e francamente ringrazio molto l'azienda che mi ha dato la possibilità di provarlo gratuitamente anche se sono un canale piccolino sono molto contenta di questo andiamo a mettere il burgundy breeze epiglam appunto che ho scelto per questa manicure non è da tutti brand comunque scegliere canali piccolini quindi ringrazio nuovamente l'azienda non è da tutti scegliere comunque un canale piccolo assolutamente e dare comunque la possibilità a content creator più piccoli di provare comunque un brand che è sponsorizzato anche da comunque influencer grandi è francamente una cosa che ho apprezzato non preoccupiamoci se sbordiamo leggermente perché una volta polimerizzato purtroppo con il rosso può succedere una volta polimerizzato vi dico è molto molto semplice comunque pulire la zona a differenza di altri semi permanenti che se voi li avete provati mi confermerete ci sono alcuni semi permanenti che correggere le imprecisioni quindi c'è bisogna proprio farsi tra virgolette il segno della croce ecco vado a sistemare bene la piccola sbordatura la sistemiamo a polimerizzazione fatta in assoluta tranquillità ragazzi non non spaventatevi purtroppo diciamo che un aggravante del colore è sostanzialmente questa cerco sempre ovviamente di levare l'eccesso ma avendo comunque l'unghia corta può può succedere ma poi una volta polimerizzata in lampada comunque l'effetto viene bello uguale purtroppo con i colori appunto può può succedere e diciamo che è una tipologia di smalto che ti dà la possibilità di sistemarlo in maniera molto molto tranquilla senza far soffrire le unghie e poi comunque l'effetto finale al di là del mio povero callo che deve guarire che ho mi sono fatta una crosticina in autonomia come dire l'effetto comunque mi piace e diciamo che nel mese di dicembre per quanto io sia molto un grinch ci può stare mi piace e poi per il fatto che comunque non è una tipologia di due volte non è una tipologia di smalto che incide in maniera gravosa per così dire sull'unghia francamente ben venga e quindi questa cosa è effettivamente molto molto interessante mi piace molto e quindi questo noi siamo belli tranquilli sotto alla lampada e quindi questo poi come ultimo step bisogna riprendere sostanzialmente le cleaning parts per andare sostanzialmente quante volte ho detto sostanzialmente a sgrassare appunto l'unghia ok benissimo andiamo a prendere la salviettina e andiamo a passarla bene su tutte tutte le unghie che e andiamo a sgrassare sostanzialmente il fulcro di tutta questa cosa serve per andare a togliere appunto la parte grassa dello smalto semi permanente ok vi faccio vedere come qua che ho fatto una leggera sbordatura vado a prendere sostanzialmente e secondo me questo è un aspetto positivo di shiglem qua guardate che ho una leggerissima sbordatura con sostanzialmente aspettate ok con quello che si trova dentro al kit per le cuticole sostanzialmente lo vado a togliere benissimo lo lavoro un po' e mi permette appunto di toglierlo poi con una forbicina semplice 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 sostanzialmente dopo che l'ho lavorato vado proprio a pulire questa imprecisione ok perché sostanzialmente è smalto in eccesso ci può stare con i colori però vi mostro come la gestione di epiglem è molto molto semplice che ti permette anche di gestire le imprecisioni in maniera più semplice rispetto a a uno smalto semi permanente tradizionale che diventa più complicato riprendo proprio per sgrassare bene anche le ultime piccole imprecisioni qui nessuno è estetista e non voglio insegnare niente a nessuno mi impegno nella mia beauty routine anche delle mani ok benissimo purtroppo l'unghia è corta però si fa quel che si può nulla ragazzi questo è il video dedicato alla manicure rossa vi ripeto che con il codice sconto cate 50 con la k avrete diritto al 50 per cento di sconto su tutto il sito con 50 con il raggiungimento di 59 euro addirittura la scelta di un regalo the perfect gift è un'ottima idea regalo che riceverete se ordinate adesso entro natale quindi facendo felice un'amica la sorella la mamma chiunque ami farsi le unghie a casa sarà un regalo apprezzatissimo spero di avervi tenuto un po di compagnia di avervi dato qualche dritta utile soprattutto per i regali di natale che sappiamo che ci rendono sempre un po' stressati iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti lasciatemi un like di supporto ricordatevi di seguirmi anche su instagram dove mi trovate come c4k e noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas ciao a tutti